Mamma, moglie, mamma della moglie, una per me Chi gli ha regalato questa bellissima mimosa? Io l'ho regalato a mia madre Dov'è la sua mimosa? Eh non ce l'ho, non mi ha comprato la mimosa Ancora non gli ha preso la mimosa? No, 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 non usevo Ho in mano una mimosa, perché è questa bella mimosa? È per una mia cara amica Ma lei cosa pensa della violenza di genere? Per le persone che prima regalano i fiori e poi invece commettono violenze? Naturalmente ne penso tutto il male possibile È uno dei grandi problemi del nostro tempo E ritengo anche che bisognerebbe essere più severi nell'affrontarlo Altrimenti non si risolve nulla Se ne parla da decenni Penso che il tempo delle chiacchiere sia finito Bisogna assolutamente passare i fatti ora Oggi in occasione per la festa della donna abbiamo fatto il gusto Viva le donne, viva le donne sempre È un gusto particolare perché ha un mix di un semifreddo alla vaniglia Una classica crema carciolina Con un gelato alla vaniglia del Madagascar E una glassa all'arancio all'interno Viva le donne, sempre!